Ance e sindacati oggi insieme chiamano a raccolta gli enti locali e gli amministratori del territorio per cercare di trovare delle soluzioni per superare la crisi. Giancarlo De Sanctis, qual è l'obiettivo di questo incontro? L'obiettivo intanto è insieme per l'edilizia, per il lavoro, per una buona edilizia. E questo è importante perché imprenditori e lavoratori stanno soffrendo questa crisi insieme e insieme vogliono venirne fuori, vogliono trovare la soluzione per venirne fuori. In secondo luogo è quella di cercare di far capire alle amministrazioni pubbliche, dalle più grosse alle più piccole, che sono poi le tante, cioè i comuni, che bisogna allentare il patto di stabilità per mettere in moto tutte quelle risorse economiche che attualmente sono parcheggiate. Bisogna avere le risorse per pagare i lavori che stanno eseguendo, perché altrimenti le imprese non prendono i soldi, non possono pagare gli operai e le materie prime, e non possono pagare gli enti e quindi avere la regolarità per poi prendere i soldi. È un cane che si morde la coda di fatto. Presidente, è un incontro importante, è un incontro come abbiamo visto molto partecipato. Noi abbiamo perso 3.000 iscritti in Cassedile negli ultimi tre anni e 400 imprese hanno cessato la propria attività. Io penso che se le pubbliche amministrazioni continuano a non pagare i loro crediti, credo che a fine anni ci saranno almeno un calo di altri 2.000 iscritti. E quindi praticamente è un settore che è completamente a collasso. Non è più possibile fare delle opere finanziate dalle imprese che già devono pagare tasse come tutti i cittadini. E quindi ho cercato di coinvolgere in questa assemblea anche le organizzazioni sindacali che hanno diritto volentieri, perché è chiaro che non è più un problema solo delle aziende, ma anche un problema dei dipendenti di queste aziende.